Un vizio di forma rischia di far saltare 110 condanne. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Stampa, la Cassazione ha annullato il deposito delle motivazioni della sentenza del processo infinito, operazione che portò a sgominare le cellule dell'andrangheta attive in Lombardia. L'errore sarebbe da imputare a una macchina. Ci fu un doppio deposito delle motivazioni dovuto al guasto della stampante che mangiò 120 delle 900 pagine. Il giudice dell'udienza preliminare si accorse della mancanza e fece un provvedimento di integrazione in cui si rendeva conto dell'inconveniente tecnico e veniva aggiunta la parte mancante. Dopo l'annullamento del deposito da parte della Cassazione, ora la parola spetta alla Corte d'Appello. Nel frattempo gli arrestati restano in carcere. Roberto Saviano definì una rivoluzione nella lotta alla criminalità organizzata alla sentenza del processo infinito, un durissimo colpo all'andrangheta Lombarda. Un'operazione che ha portato lo scorso dicembre alla condanna di sei comaschi, principalmente delle cellule di Mariano Comense ed Erba, per un totale di 82 anni di carcere.